Anno Domini, XXV, la bimba e lo gioco suo, entro lo basso foro di conservarlo cibo, cade. Domenico, lo servitor di fede, il soccorso porta, e tarpo giunge. Nullo trova la zurrina vecchia pronte, nello suo resto. Lustro dopo lustro, l'ospite tocca con mani la voce sua e lo suo lamento. Non c'è bello, telefono 0541 67 51 80.